Quattro studenti valdarnesi, unici rappresentanti per le province di Arezzo e Firenze, diventeranno ambasciatori virtuali all'ONU a New York. Questo è il premio per la partecipazione da parte degli alunni all'ITT Ferraris ad un progetto su lingua inglese e politica internazionale nell'ambito toscano. Così Mattia Morbidelli, Cristian Bellandi, Sharma Jatin e Karan Birsing vivranno a marzo un'esperienza davvero unica. Alla base il coinvolgimento e la partecipazione da parte delle insegnanti Isabella Livi, Piera Sestini e Rossella Bracci. Un corso di formazione diviso in vari moduli. Inizialmente questo corso deve essere tenuto o a Firenze o a Arezzo, proprio per il discorso di vicinanza. E poi come finale un viaggio a New York, dove avrebbero partecipato ai lavori anche dell'ONU rappresentando un paese che sarebbe stato sorteggiato. Noi insegnanti d'inglese sostanzialmente abbiamo svolto un lavoro dietro le scene, insomma come sempre succede agli insegnanti. E in questo caso devo dire che siamo state anche fortunate perché questi ragazzi hanno raggiunto un livello di competenza linguistica elevato, che li mette in grado di poter portare avanti un progetto così ambizioso. Cresce ovviamente però soprattutto l'attesa vista da parte degli studenti. Partiamo il 12 di marzo, quindi manca ormai poco e avremo una simulazione finale a Roma il 2 di questo mese. In questa simulazione andremo proprio a fare un processo molto simile a quello che svolgeremo a New York, al Palazzo di Vetro dell'ONU. Penso sia un'ottima esperienza, bellissima e molto emozionante. Sicuramente ci formerà e ci farà capire un po' come funziona anche la politica a livello internazionale. Permetterà di crescere in ogni livello, a livello personale, culturale, esplorare nuove culture, anche perché New York non è solo una città statunitense, è una città popolata da quasi persone da tutto il mondo, quindi avremo l'opportunità di conoscere persone di vari generi e imparare da loro. Una delle università che vorrei frequentare è proprio quelle di scienze politiche, quindi un collegamento potrebbe esserci. Sicuramente questa esperienza mi sarà d'aiuto per entrare nell'ottica anche di studi prossimi.